ben trovati agenti speciali comandi colonnello siete stati scomodati a quest'ora del mattino per una ragione di vitale importanza il mio compito è di aggiornarvi su recenti sviluppi che riguardano l'operazione cane bagnato l'operazione cane bagnato coligan uno schermo di propaganda da questa parte avanzare poposetta te io non li deve scarci informazione supina non sono capace cosa hai saltato l'addestramento sono credibile siamo fuori pericolo non c'è nessuno di noi sono credibile inizio ad essere troppo vecchio per questo ci sarò sempre io al tuo fianco collega non ti preoccupare l'ordomale il lato malvagio come saprete il mese scorso una cella appartenente al lato malvagio ha salito una delle nostre truppe all'avamposto del cangiolino scodinzolino zampino wuf wuf già abbiamo perso molti dei nostri ma non siamo ancora alle stelle palla tuttavia palla non possiamo mostrare ai collega palla palla dammela un attimo anch'io voglio la palla adesso te la do eh aspetta un attimo sembrerebbe voleva collega smetta di trastullarsi e si comporti da cane chiedo scusa su dicevo sembrerebbe che un ristretto gruppo di militanti del clan sorvegli una struttura nella quale tengono prigioniero il generale furbini il generale furbini il vostro compito è quello di infiltrarvi nella struttura senza farvi individuare dunque alt shift siete gli agenti migliori di questo reparto e ho piena fiducia nel vostro successo ricevuto boomerson superare le guardie non dovrebbe essere un problema sarete dotati di ogni cosa possa tornarvi utile torde coltelli rampini rampelli rampar colpini ma soprattutto pesche in cibo questo cibo contiene un potente lassativo mi raccomando di non cadere in tentazione i risvolti potrebbero essere catastrofici queste serviranno solo ed esclusivamente per le guardie affermativo comandi colonnello boomerson vi introdurrete quando effettueranno il cambio della guardia olio uno spicchio d'aglio una volta entrati vi dovrete dirigere verso la ovest è lì che troverete il generale furbini una volta liberato dovrete solo pensare a mettere in salvo la pellaccia ricevuto boomerson crossbro Grazie a tutti. 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 Muoversi. Muoversi. Questa modalità zampe silenti effettivamente funziona. Senti che roba, senti che roba, senti? Funzionerà pure bene, ma questa scala... Sono troppo vecchio per questo... Eccoci qua, occhi sull'obiettivo. Ecco il generale Furbini. Sei arrivato giusto in tempo per l'esecuzione del generale Furbini. Assisteremo alla sua fine finalmente. L'esecuzione. Ehi Furbini, ultime parole... Ehm... 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 Generale. Ehm... Borderton Colligan. Che piacere vedermi. Piacere nostro generale. Liberatemi. Prima che tornino. Presto. Bella dissolvenza. Bello rivederla tutto d'un pezzo, generale. Bentornato tra noi. Merito dei suoi incredibili agenti speciali, colonnello Boomerson. Dovere. Dovere. A proposito. Vedo Colligan ma non vedo Borderton. Ehm... Diciamo che ha avuto un... Incidente di percorso. Incidente. Già. No. Non mi dica che è successo di nuovo. Eh sì. Ha mangiato il lassativo. Il cibo è la sua debolezza più grande. Ma questo ai fini narrativi serve per creare empatia da parte del pubblico in maniera tale che si affezioni. Personaggio perché ci si identifica. Sta spurgando da ora il poveraccio. Ha proprio un bel cagotto. Sì sì. Puzzoso. Squacqueroso. Tu. A proposito Colligan. Saresti così gentile ad andare a dare un occhio al tuo collega? Affermativo. Grazie. Andare a dare un occhio. Andare a dare un occhio. Andare a dare un... Colonnello delle informazioni riservatissime che devo confidarle personalmente. Riguardano il bieco piano malvagio di conquista di Lord Male. Certamente. Ci vediamo al quartier generale. Generale. Ok Boom? Son. Che lo Sbrokniak sia con lei. Che lo Sbrokniak sia con lei. Che lo Sbrokniak sia con lei. Ah! Dannazione! Inetti. Incompetenti. Tutti i miei piani mandati in fumo. Siete proprio due nabbi. Un semplice compito avevate. Sorvegliare furbini. E ve lo siete lasciato sfuggire. E ciò che è peggio. Quei cani. Ve l'hanno fatta di nuovo. E non per molto. Presto metterò le mani sui Scroknucks. e i miei due cani non potranno fare nulla per fermarmi. Ahahahahahahahahahah Stasera voi, ecco la Fiat Prova... Cosa avete da ridere voi due? Ancora niente Capo? Giuro che prima mi era riuscito Quando tornerò alla base, me la vedrete con me di persona Scrovolers Cosa ci fate qua? Quanti falsi finali volete ancora? Scrovolers 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 Grazie.